Titolo di credito falso per un valore di un milione e mezzo di dollari sequestrati. Un cittadino nigeriano ha deferito all'autorità giudiziaria per il reato di ricettazione. E questo è il bilancio di un'operazione condotta dai baschi verdi dal comando provinciale della Guardia di Finanza di Sassari nei giorni scorsi. Le fiamme gialle hanno sottoposto ad un controllo un nigeriano con precedenti per traffico e spaccio di stupefacenti, ufficialmente residente in provincia di Napoli, ma a domiciliato a Sassari. I militari non gli hanno trovato droga addosso, ma hanno deciso di estendere i controlli al luogo in cui il nigeriano ha domicilio nel capologo turrittano. Non senza difficoltà, a causa della reticenza dell'uomo, baschi verdi sono riusciti ad individuare l'appartamento che è stato sottoposto a perquisizione. I finanzieri pensavano di trovarvi della droga, che non era presente, ma con poca sorpresa hanno rinvenuto titoli di credito falsi. Si tratta di oltre 1.500 ordini di pagamento dell'Istituto di Intermediazione Finanziaria Moneygram, ciascuno ha il valore nominale di 994 dollari. Per un valore complessivo di circa 1.500.000 dollari, tutti emessi in Texas. Il cittadino nigeriano non ha saputo giustificare il possesso dei documenti e pertanto, dopo le formalità del rito, è stato denunciato a piede libero per il reato di ricettazione. Le Fiamme Gialle, sottolinea la nota, hanno avviato le indagini per risalire alla provenienza dei titoli di credito sequestrati. Il servizio si inquadra nella quotidiana opera di controllo di repressione di traffici illeciti operata nell'ambito della provincia di Sassari da parte delle Fiamme Gialle, con particolare riguardo ai reati di natura economico-finanziaria.